Storia di Iqbal Capitolo primo Sì, ho conosciuto Iqbal. Penso spesso a lui, specie di notte, quando mi sveglio perché ho freddo o perché sono troppo stanca per riuscire a prendere sonno. Nella stanza sotto il tetto dove ci fanno dormire i nostri padroni italiani c'è una finestra strana che guarda verso l'alto, verso il cielo. Non so come la chiamate voi, al mio paese non ci sono finestre così, ma qui in Italia è tutto tanto diverso dal Pakistan, ancora non mi sono abituata. A me questa finestra piace perché a certe volte, quando il cielo è pulito, attraverso il vetro si vedono le stelle e magari una falce di luna. Le stelle sono l'unica cosa che ho trovato uguale venendo qua dal posto in cui vivevo, vicino alla città di Laore. Certo, le nostre brillano un po' di più, ma io credo che le stelle siano uguali in tutto il mondo e che siano sempre una consolazione se vivi in un paese straniero e se ti senti sola e ti viene la malinconia. Ho due dei miei fratelli qui con me, Hasan, che è poco più piccolo di me, e Ahmed, il maggiore. Hasan lavora per la stessa famiglia che mi ha preso a servizio e questa è una fortuna. Sono dei buoni padroni, non ci trattano mai troppo male e certo non ci bastonano come facevano i miei padroni di Laore. Anche il lavoro è meno duro, pulisco, vado al mercato, sto con i bambini. Questa è la cosa che mi piace di più. La mia padrona ha due bambini, una femmina e un maschio. Sono belli, sono puliti, mi vogliono bene e mi dicono sempre Fatima, Fatima, gioca con noi. Allora prendiamo tutte le bambole, i pupazzi di pezza e altri giocattoli misteriosi e strani e giochiamo. Ci sono quelli che fanno le voci, quelli che si muovono da soli, quelli che hanno tante luci colorate che si accendono e si spengono. Io non li so usare, non li ho mai visti, certe volte quasi mi spaventano. I primi tempi pensavo che fosse una magia, mi facevano paura. I bambini ogni tanto perdono la pazienza e mi dicono Uffa Fatima, sei proprio stupida. Ma io imparo alla svelta e passerei le giornate a giocare con loro e a scoprire cose nuove, come se anch'io fossi ancora una bambina. Purtroppo arriva sempre la padrona e mi dice Fatima, cosa fai qui? Non dovresti essere in cucina? Io scappo via alla svelta, coprendomi il viso per la vergogna, perché ho 16 anni ormai, forse anche 17. Non lo so bene, ma comunque sono una donna adulta e dovrei essere sposata da tempo e avere figli miei. In Pakistan i padroni non ci lasciavano giocare. Non c'era tempo. Dovevamo stare sempre al telaio, dall'alba al tramonto, tutti i giorni. Ma mi ricordo degli aquiloni. E di quella volta che Iqbal e io abbiamo fatto volare l'aquilone, di come eravamo emozionati e felici a vederlo salire nel vento, sempre più in alto. Questo è successo prima che lui partisse per quel suo lungo viaggio in un posto che si chiama America. Quando tornerò, mi disse, faremo volare l'aquilone tutti i giorni. Non è successo invece. Mi piacerebbe insegnare l'aquilone ai figli della padrona. Si divertirebbero, ma non so se riuscirebbe a volare. In questa città non c'è né spazio, né vento, né azzurro. Si impiglierebbe nell'antenna e temo, resterebbe là a morire. Non so invece che cosa faccia Ahmed, il mio fratello maggiore. Lo vediamo ogni tanto, quando i padroni ci concedono una mezza giornata di libertà. C'è una piazza dove ci troviamo tutti, noi pakistani, che adesso viviamo qua. Non è una bella piazza, a dire il vero. Ci sono solo tre panchine e un paio di alberi secchi. E spesso piove, ma non abbiamo altro posto dove andare. Ci troviamo per parlare tra di noi e ridere un po'. Gli uomini da una parte, le donne dall'altra. In queste occasioni noi donne ci mettiamo la purda, il velo che copre i capelli e parte del viso, come si usa da noi, per pudore. Ahmed arriva come se si guardasse alle spalle. Agita le mani, dice che dobbiamo stare attenti. Dice che torneremo presto a casa, al nostro paese, quando avremo soldi a sufficienza. Ma lui soldi non ne ha mai e spesso glieli diamo noi. Più di una volta ho sentito che l'alito gli sapeva di birra. E questo è peccato, bere alcol. Ma io non lo voglio giudicare. È il mio fratello maggiore e poi immagino sarà infelice, come tutti noi. Non so neanche se voglio tornare al mio paese. Là stavo male. Qua non sto bene. È vero, qui nessuno mi maltratta. Qui non mi fanno lavorare fino a quando cado sfinita sul pavimento di terra battuta. Non ho le mani piene di vesciche e di tagli che nessuno ti cura e fanno infezione. Qui non sono una schiava. Qua i padroni mi danno da mangiare e da dormire e anche dei soldi. Non mi devo lamentare e gli sono grata. Qua sono libera. Però, dice Ahmed, che se ci trovano, prima ci mettono in un campo con le sbarre, poi ci mandano via. Io non lo so. Forse è per quello che provo quando vado al mercato a fare la spesa, indosso la purda e prendo una grande borsa, cammino a testa bassa. C'è molta più roba che nei nostri mercati, ma meno colorata, meno allegra. Tanti prodotti all'inizio non sapevo cos'erano e non ne conoscevo neanche i nomi. Facevo segno con le dita. Ne voglio tre, ne voglio quattro. Spesso sbagliavo e la padrona si arrabbiava. Adesso è più facile. Ma il fatto è che nessuno mi vede. Non so come spiegarlo. Passo in mezzo a tutta quella gente che parla, che grida, che si saluta. E solo io è come se fossi invisibile. Nessuno mi rivolge la parola. Mi urtano in mezzo all'arressa e nessuno mi dice scusa. Ho addirittura pensato di essere diventata un jean, uno di quegli spiritelli che non si vedono e che si divertono a romperti i vasi in casa e a farti sparire gli oggetti. Io cammino e non ci sono. Mi fermo a guardare le bancarelle piene di frutta e verdura e non ci sono. Faccio la spesa e il commerciante mi dà la roba. Prende i miei soldi, mi conta il resto che io subito controllo per non farmi imbrogliare e lui guarda attraverso di me la persona che aspetta le mie spalle e parla con lei, ride, scherza. Io non ci sono. Per questo sono triste la notte su in soffitta. È in quei momenti che penso a Iqbal e penso a lui come al mio sposo. Lo so che è un pensiero stupido. È proprio una cosa da ragazze sciocche che ci si sussurra all'orecchio così per ridere. E poi non sta neanche bene pensare una cosa del genere. Al mio paese non usa che una ragazza si scelga lo sposo. È la famiglia che ci pensa e conduce le trattative e stabilisce la dote. È sempre stato così per mia madre e per la madre di mia madre ed è giusto, probabilmente. Qui da voi è diverso, certo, ma io ormai sono troppo vecchia per trovare marito. Nessuno mi vorrebbe. Eppure, certe notti che il cielo è freddo e nero e non si sentono più i rumori della strada e ho gli occhi spalancati nel buio e vorrei piangere ma non ci riesco. Allora sogno che Iqbal sale lungo il viottolo che porta alla casa dei miei genitori, circondato dai suoi amici e parenti. E c'è anche Asan Khan, l'uomo che è stato il suo secondo padre e sono tutti vestiti a festa. Sogno che io lo aspetto nelle stanze delle donne e non devo far vedere l'emozione che mi stringe il cuore. Sono vestita di rosso, come deve essere una sposa. e le mie sorelle mi hanno decorato le mani e i piedi con i motivi floreali disegnati con l'ennè scuro. Sogno che Iqbal entra nella mia casa profumata di fiori e incenso e davanti ai miei genitori, ai miei fratelli, ai miei parenti, mi prende in sposa e ce ne andiamo, io e lui, insieme, liberi. Lo so che questo è solo un sogno, come dire un'illusione. Lo so che Iqbal non può tornare a prendermi in questo paese incomprensibile e straniero. E non so neanche se mi avrebbe voluta come sposa allora. In fin dei conti eravamo solo due bambini, cinque anni fa. Ma questo è stato Iqbal per me, la mia libertà, l'unica libertà forse della mia vita. Lasciatemi allora questo sogno, non fa male a nessuno. Per lui io non ero invisibile, io esistevo. Perciò questa è la storia di Iqbal, come io l'ho conosciuta, come io la ricordo.